recupera la palla su Giovinco che si scusa con Crespo Merkel ha un po' di campo perché il Parma stava uscendo Merkel ancora addirittura il tiro in porta deviato c'è Ibra al limite dentro per Sedorf una palla pazzesca di Ibrahimovic Sedorf fino in fondo Claren Sedorf fa 1-0 esploda Milan Parma determinante Sedorf in questo inserimento ma Ibrahimovic ha toccato il secondo pallone della partita di prima vedendo l'inserimento del compagno visione di gioco straordinaria il secondo assist consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Genova per Pato gran palla era stato bravo Milante a impattare il primo tentativo di dribbling di Sedorf che comunque ha seguito il pallone è andato sul rimpallo e ha messo in porta da pochi metri dal palo sono più belli gli assist dei gol di Ibrahimovic fa delle cose da fermo il tocco qui senza guardare dalla palla dentro sapendo che la difesa salirà Sedorf capisce di giocare con un fenomeno vero va su questo pallone salta Mirante era stato bravo a toccare la palla ma non fortunato e poi con l'interno del destro mette dentro il suo primo gol in campionato e risponde a quelli che sono stati fischi delle ultime partite in casa quando aveva giocato l'olandese poi in Genova la difesa del Parma che lì prima ha lasciato troppo spazio Ibrahimovic molto